Lunghe code di auto e famiglie che ieri hanno sfidato il freddo e la pioggia per il maxi screening dell'epifania organizzato dalla regione. L'obiettivo un rientro a scuola in sicurezza per gli studenti delle elementari e delle medie su tutto il territorio regionale. Sono stati predisposti 16 punti tamponi eseguiti in modo gratuito ai bambini e ai ragazzi con sintomi o che avevano avuto un contatto diretto o sospetto con una persona positiva al coronavirus. Nelle Marche sono stati eseguiti complessivamente 5.494 test antigenici di ultima generazione affidabili come i molecolari. 420 sono risultati positivi cioè pari al 7,6%. In particolare nei drive dell'area Vassa 1 sono stati effettuati più di 1.400 tamponi. A Fano sono stati individuati 39 positivi, a Pesaro 48, mentre a Urbino e Sasso Corvaro soltanto 12, anche a fronte di un numero minore di test processati. Durante la giornata non sono mancate tensioni e polemiche. A Pesaro, nel lab di Via Lombardia, molte famiglie sono state mandate via due ore prima della chiusura stabilita. Così qualche genitore ha chiamato i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Invece il consigliere regionale Andrea Biancani sui social ha ringraziato il personale dell'Azur e i volontari della protezione civile, ma ha anche criticato la scelta della regione che ha escluso dallo screening gli studenti delle scuole superiori. D'altra parte però è stato accolto il suo appello di prevedere degli open day per i non prenotati e per i cittadini con green pass in scadenza e impossibilitati a prenotare entro tale termine. Infatti, in tutti i fine settimana di gennaio, nelle Marche saranno attivi a questo scopo e per gli overe 18 i punti vaccinali indicati sul calendario pubblicato sul sito della regione, nell'area Vassa 1, verranno eseguiti sabato al Codma e domenica in via Pablo Neruda Urbino, dalle 14 alle 20. Intanto, lo screening scolastico prosegue il 7 gennaio ad Amendola, nel Fermano, dalle 8.30 alle 13, e l'8 gennaio a Cagli, dalle 14 alle 18, all'eliporto in via Meucci 6, in zona Candiracci. Dobbiamo garantire la scuola in presenza, limitando il più possibile il ricorso alla Dada, ha dichiarato l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. La nostra riconoscenza, giunto, va il personale sanitario che ieri è riuscito a garantire il servizio e che il giorno precedente ha raggiunto il record di vaccini anti-Covid somministrati in regione, oltre 18.000 con 1.650 prime dosi.